E' una crisi di consumi quella che viviamo. Il governo smetta di tassare i poveri e chiede i soldi a chi evade o campa di rendite. E' quanto dichiarato dal Kodakons che denuncia la crescita di fine anno è solo una favoletta. A confermarlo, secondo il Kodakons, i dati resi noti dell'Istat, nel secondo trimestre del 2013 il PIL è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e del 2,1% nei confronti del secondo trimestre dello scorso anno. Un netto peggioramento rispetto alla precedente stima, un meno 0,2% su base congiunturale, un meno 2% su base tendenziale. Per il Kodakons è ormai evidente a tutti che la famosa previsione di una crescita del PIL per l'ultimo trimestre dell'anno era un miraggio. Una favoletta raccontata all'Europa e agli italiani per cercare di dare loro un'iniezione di fiducia. Ma la cosa ancora più grave rileva l'Associazione dei consumatori e che il governo non ha ancora capito che questa è una crisi di consumo e che fino a quando non si allontanerà la morsa fiscale sui ceti medio-bassi ridotti sull'astrico, la ripresa resterà una chimera. Lo dimostra il dato Istat sulla spesa delle famiglie residenti che nel secondo trimestre 2013 ha registrato un calo in termini tendenziali del 3,3%, facendo crollare i consumi finali nazionali del 2,4% rispetto al secondo trimestre del 2012. Per ridare fiato alle famiglie, conclude il Kodakons il governo deve convincersi che il rinvio dell'aumento dell'IVA non è un traguardo, ma solo un primo passo di lungo cammino che deve ridisegnare il sistema tributario spostandola da stazione da chi ha finito i soldi a chi vado a campa di rendite dalle imposte che non rispettano il criterio della progressività come l'IVA, aumentate a dismisura in questi ultimi anni, a quelle correlate alla ricchezza come la tassa sulle rendite finanziarie che oggi con l'aliquota del 20% è la più bassa d'Europa.